Antonio Madonna, purtroppo siamo qui a commentare un'altra sconfitta, peccato perché siete partiti benissimo però il dato di fatto è che insomma fate ottimi i primi tempi, però nel secondo tempo un po' venite meno. Sì, questa volta a dire il vero abbiamo approcciato il secondo tempo subito con due gol però evidentemente ci manca quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di grinta che in Serie B fa la differenza. Vedendo i quintetti credo che eravamo nettamente superiore all'avversario però quando gli avversari ci mettono grinta e ci mettono cuore in campo a differenza nostra portano a casa i tre punti. È mancata forse pure un po' di lucidità nel momento clou della partita, c'è stata l'espulsione di Oriente che vi ha costretto a giocare un in meno, lì poi avete preso il gol del vantaggio loro, avete avuto tante occasioni per rimetterla ma come dicevi tu è mancato un po' di cinismo sotto porta. Sì, è dall'inizio che ci caratterizza questa cosa che sotto porta siamo poco prolifici proprio sulla linea di porta la palla non voleva entrare, ci manca quella cattiveria sotto porta per farci fare il salto di qualità anche perché i presupposti ci sono però se non iniziamo a far punti è difficile. Assolutamente, nella prima giornata forse c'è stata questa sconfitta netta con le ferro e comunque abbiamo visto una squadra viva, questo sicuramente è di buon auspicio per il futuro. Sì, sì, sicuramente è di buon auspicio però dobbiamo un attimino fare una mia colpa e capire dove dobbiamo migliorare e dove dobbiamo mettere quel pizzico di cattiveria in più perché come ti dicevo il sabato altrimenti sopperiremo molte volte perché queste squadre, specialmente squadre campane, agonisticamente sono molto forti, ci credono e quando andremo a giocare poi in casa loro non credo che saranno campi come lo Sturzo di Campobasso. Sei un giocatore di grande esperienza, navigato, hai vissuto tanti momenti anche così nella tua carriera ti è capitato, sicuramente la medicina migliore è quella di stare in silenzio, lavorare e cominciare a pensare già alla prossima giornata. Sì, sì, adesso è inutile parlare perché poi a caldo si possono dire tante cose ma si deve analizzare la partita e si deve capire dove abbiamo sbagliato e mettere una pezza dove possiamo per iniziare a far punti già da sabato prossimo.